Prova! Siamo qui assieme a Giovanni, una mente dei CCCP, CCCCCP, fedeli alla linea. È uscito in questi giorni il nuovo disco, un 12 pollici picture disc, che poi vi faremo ascoltare, e parliamo un po' con Giovanni su un po' le origini dei CCCP, cosa significa per voi suonare, cosa significa per voi essere CCCP? Allora, all'inizio della storia è cominciata a Berlino, davvero, non come favola a posteriori. È cominciata a Berlino dove Massimo, il chitarrista di CCCP, faceva il pizzaiolo per sopravvivere e abitava in una casa occupata. E Giovanni, che invece faceva l'operatore psichiatrico a Reggio Emilia, era a Berlino, in vacanza, genericamente, a vedere quello che succedeva in questa città, erano gli inizi degli anni Ottanta, era l'anno Ottanta in sostanza, per vedere l'ambiente delle case occupate, l'ambiente berlinese, di cui si sapeva troppo poco, insomma, se non come interesse generico. Questo ambiente per noi era un ambiente molto bello, molto vivibile, molto pieno di possibilità, di esperienza, di espressione. E i CCCP sono nati lì, come idea. Ci è sembrato che in quel momento, dopo tutte le cose che avevamo già fatto nella vita, noi venivamo da un'esperienza politica degli anni 70, molto lunga, in qualche modo sofferta e conclusa. E lì ci sembrava che l'ambiente di Berlino ci desse la possibilità di ripensare anche la nostra esperienza politica passata. Scusa, stavamo dicendo? Stavamo parlando di Berlino. Sì. A Berlino in quel tempo il mezzo di comunicazione più usato era la musica, era il punk tedesco in sostanza. In Italia è quasi sempre arrivato il punk inglese, in tutto il mondo la storia del punk l'hanno fatta agli inglesi. In Germania la cosa era leggermente diversa, erano diverse le basi ideologiche, ma era molto diverso anche il vissuto, tra le case occupate inglesi e le case occupate tedesche, di Berlino soprattutto c'è sempre stato un abisso in sostanza, anche se tutte e due erano case occupate. Lì la nostra voglia di avere a che fare con la politica era conclusa. Io ho cominciato a fare politica quando avevo 14 anni, quando avevo 24 anni ho cominciato ad avere dei problemi e ho smesso per un po' di tempo e ho considerato questa un'esperienza conclusa che mi ha lasciato un sacco di cose di cui non mi potevo assolutamente dimenticare, di cui non potevo fare a meno.